Salve a tutti, qui Divus a chi vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Qui sul mio canale mi occupo spesso e volentieri di opere di fantasia. Film, serie tv, racconti nati dall'immaginazione di qualcuno o di più persone messe assieme. Non tutti noi esseri umani siamo creativi, nel senso che riusciamo a creare una storia, una saga, un film, appunto. In realtà il potenziale creativo lo abbiamo sempre con noi. Un vero e proprio concentrato di creatività mi riferisco ovviamente al cervello. E il cervello spesso si dimostra particolarmente creativo durante il sonno. Questo video, che sarà un po' diverso dai soliti video che porto sul canale, riguarda proprio il mondo dei sogni, il nostro inconscio onirico. Tutti noi sogniamo, alcuni ricordano i sogni, altri no. A volte sogniamo cose sensate, ricordi, esperienze. A volte sogniamo cose apparentemente senza senso, ma per questo molto divertenti. Quindi in questo video condividerò con voi tre sogni molto particolari che ho fatto di recente. E spero che questo primo video onirico possa poi dare il via a una rubrica in cui magari anche voi andrete a condividere alcune vostre esperienze. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social. Basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Premessa importante, non sono uno psicologo. Non mi intendo di interpretazione psicoanalitica dei sogni. L'intendo solo condividere con voi, anche così, per fare un momento community. Intanto mi espongo io e i miei sogni bizzarri. Il primo sogno bizzarro che vi racconto l'ho fatto qualche mese fa. Dopo aver visto un video di Yotobi a tema sogno, ho cominciato anch'io ad appuntarmi a scrivere alcuni dei sogni più strani che faccio perché avevo sempre un po' avuto il desiderio di farne qualcosa qui sul mio canale, anche prima del video del buon Yotobi. Quindi qualche mese fa mi sono appunto trascritto questo sogno che ho fatto una notte. Era un sogno piuttosto strano. Iniziava a bordo di un autobus. Io mi muovo spesso con i mezzi pubblici. Un autobus normale all'interno della mia città. Era Verona più o meno, poi sapete la geografia dei sogni è sempre un po' strana. Questo autobus però non si ferma. Non si ferma mai. Nessuno scende, nessuno sale. Io stesso provo a scendere da questo autobus, ma non ci riesco. Quindi chiedo all'autista delle informazioni, insomma vorrei sapere se questo autobus ogni tanto fa scendere e salire le persone oppure se vo va all'infinito. L'autista mi risponde che questo autobus fa una sola tratta e non si ferma. Quindi dalla partenza all'arrivo non si scende, quasi come fosse più un treno diretto. A un certo punto arriva effettivamente alla sua destinazione e finalmente possiamo scendere. Il bello è che mi ritrovo in un posto che non ho mai visto e non è un posto che conosco quindi, anzi non ha niente di italiano. È una città in pieno stile sovietico, sapete quelle città con grossi e grandi condomini di cemento, scale di cemento, tutto asettico, il brutalismo architettonico tipico dell'est Europa durante appunto l'URSS. E io penso, o meglio nel sogno pensavo, ma dove sono finito? Devo tornare indietro, non posso rimanere qui, non è un posto per me, sentivo non tanto, diciamo, paura, ma più un'ansia di dire e adesso cosa succede? Mi allontano da dove l'autobus ci ha scaricati, che era una specie di stazione, e prendo alcune scale, delle scale che portano in un'altra parte di questa città. E lì il sogno poi diventava un po' confuso, infatti non mi ricordavo benissimo che cosa fosse successo. Alla fine riesco a riprendere un autobus e torno indietro. Solo che non torno in quella versione onirica di Verona, ripeto, la mia città, ma in un posto che sembrava un mix di città diverse, con elementi di Roma, di Firenze, un mix di città d'arte italiane. Al che mi ricordo che come ultimo pensiero del sogno ho detto, beh vabbè, almeno è più bella che quella specie di città sovietica brutalista. Sogno strano, sì, niente di che, un po' bizzarro più che altro nello svolgimento. Passiamo al secondo sogno, questo molto più strano però molto più influenzato da anche, diciamo, il contesto in cui viviamo, e dal fatto che ho sognato questa cosa mentre stavo guardando la serie Amazon di Fallout. Per chi non lo sapesse, Fallout è una serie videoludica diventata poi serie tv, ambientata in un contesto post-apocalittico. C'è stata una grande guerra nucleare in tutto il mondo, tra la Cina e gli Stati Uniti, e da questa guerra nucleare è rimerso un nuovo mondo fatto di mostri, di fazioni in guerra, un universo molto affascinante che ho trattato anche in vari video qua sul canale. Inoltre il contesto storico che stiamo vivendo ha riportato in auge le tensioni purtroppo anche tra potenze e superpotenze. Si parla ogni tanto di guerra nucleare, io stesso mi sono visto dei prodotti a tema guerra nucleare, e quindi insomma c'è proprio il classico strato da cui poi il nostro cervello va a costruire sopra. Ed ecco che ho fatto questo sogno. È una giornata normale, non mi ricordo bene l'inizio, anche quando ho preso appunti non me lo ricordavo, e incontro una ragazza. C'è subito feeling con questa ragazza e decidiamo di passare del tempo insieme. Non si capisce bene, è tutto molto veloce. Sapete, ci sono dei sogni in cui il tempo sembra fermo, e dei sogni in cui invece il tempo scorre velocissimo. Ad ogni modo, dopo un po' di tempo insieme, decidiamo di passare, diciamo, a qualcosa di un po' più fisico e interessante, insomma. Avete capito di cosa sto parlando? Nel momento in cui decidiamo di passare alle attività ricreative e fisiche, scoppia la guerra nucleare. D'altronde no. Quale momento perfetto per far iniziare una guerra nucleare, se non proprio quando stai per fare quello? D'ogni modo ormai avevamo deciso di farlo, e quindi il sogno finisce con io e questa ragazza che espletiamo le nostre funzioni fisiologiche riproduttive durante un bombardamento nucleare. Mi sembra un bel sogno ricco di logica, no? Vabbè, ogni tanto i sogni, come dicevamo, devono anche, diciamo, essere qualcosa di bizzarro, anche se, insomma, qua si capisce un po' di più il contesto. Il terzo e ultimo sogno che vi racconto invece ha a che fare con uno dei temi forti del mio canale e con una delle mie grandi passioni, i mostri. Chi mi segue da tempo sa quanto per me siano importanti e quanto esercitano un grande fascino su di me le storie con creature, mostri, entità, zombie. È il mio genere di fantascienza o horror preferito, quindi ci sta che anche nei sogni ogni tanto compaiano queste cose. Ho fatto un sogno neanche tantissimo tempo fa in cui c'erano delle creature colossali, dei simili kaiju che si aggiravano per una città. Non riuscivo a capire bene che città fosse. So che io vivevo lì, ma non capivo che città fosse. E questi kaiju che avevano un po' l'aspetto del mostro di Cloverfield, zampe lunghe, braccia lunghe, un po' simili a dei grossi ragni, un po' simili alle creature di Cloverfield. Comunque un mostro un po' composito, ma sicuramente inquietante. E questi grandi mostri appunto spaccavano la città, distruggevano palazzi, edifici, al loro passaggio scatenavano morte e distruzione. Io mi ricordo che ero in questo condominio che guardavo da lontano col binocolo queste creature che appunto spazzavano via tutto. Vi era poi un combattimento che non riusciva a scalfire queste creature, come in Cloverfield per mantenere il paragone, e poi alla fine ci hanno detto di scappare. Io ero con, penso la mia famiglia, ma non era proprio chiaro. So che ho preso la mia gatta, che c'era nel sogno, la mia vera gatta, Pitti, l'ho presa con me e siamo appunto dovuti scappare. Mi ricordo più che altro l'avevo portato via lei, evidentemente era la priorità. E siamo scappati appunto con lei, sono scappato con lei via, dove ci dicevano di andare via, perché appunto c'era da evacuare. Scappiamo, scappiamo, veniamo portati via. Anche qua ci sono delle scene mancanti, non so come siamo scappati, se ci hanno portato con dei mezzi, con degli aerei, degli elicotteri, non lo so, perché mancavano delle scene. Fatto sta che arriviamo in una zona di montagna, con un bel lago, una foresta, insomma un ambiente molto più tranquillo, molto più anche sicuro, e soprattutto lontano dalla città, dove questi mostri kaiju stavano facendo dei danni immensi. E qui ci spiegano praticamente che chiunque altro è rimasto in città, è spacciato, e che casualmente hanno portato via un po' di persone, che quindi qui noi dovremmo viverci per sempre, sperando che i mostri non arrivino. Il sogno finisce scoprendo che questi soldati, le autorità che ci hanno portato via, non erano umani. Ma erano alieni, insomma, non erano umani. Sogno finito. C'è della lore dietro questo sogno, secondo me, ma speravo di avere una seconda parte, ma così non è stato purtroppo. Bene signori, questi erano alcuni dei sogni bizzarri che mi capita di fare. Non sottovalutate mai il potere creativo dei sogni. Vi racconto a modo di aneddoto e di chiusura del video che il buon James Cameron, per fare il suo Terminator, si è ispirato a un sogno che ha fatto durante una forte influenza. Con la febbre alta, stava appunto malissimo, si è messo a dormire e ha fatto un incubo potentissimo in cui sognava di essere rincorso da un uomo di metallo, una specie di scheletro appunto di metallo, e da qui poi è nata la saga di Terminator. Quindi sempre scriversi i sogni, non si sa mai che ci scappi una bella saga. Per il video direi che è tutto, ribadisco l'invito, anche ovviamente in forma totalmente anonima, di inviarmi le vostre esperienze, i vostri sogni più strani. Non si sa mai che appunto ne esca una rubrica che di tanto in tanto vado a caricare qui sul canale. Tutti noi abbiamo un elaboratore di racconti fantastici che si attiva soprattutto di notte il nostro cervello. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete fare la sua funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.